Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatro dei burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola e strada facendo fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castellinari a uno più bello dell'altro e discorrendo da sé solo diceva oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno ma che dico di panno gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e coi bottoni di brillanti e quel povero uomo se la merita davvero perché insomma per comprarmi libri e per farmi istruire è rimasto in maniche di camicia a questi freddi non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici mentre tutto commosso diceva così gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di gran cassa pipi 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 zoom 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 e si fermò e stette in ascolto quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare che cosa sia questa musica peccato che io debba andare a scuola se no rimase lì perplesso ogni modo bisognava prendere una risoluzione o a scuola o a sentire i pifferi oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola per andare a scuola c'è sempre tempo disse finalmente quel monello facendo una spallucciata detto fatto infilo giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa pipi 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 zoom 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 quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori che cos'è quel baraccone domandò Pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai lo leggerei volentieri ma per l'appunto oggi non so leggere bravo bue allora te lo leggerò io sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto gran teatro dei burattini è molto che è incominciata la commedia comincia ora e quanto si spende per entrare quattro soldi Pinocchio che aveva addosso la febbre della curiosità perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava mi daresti quattro soldi fino a domani te li darei volentieri gli rispose l'altro canzonandolo ma oggi per l'appunto non te li posso dare per quattro soldi ti vendo la mia giacchetta gli disse allora il burattino che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita se ci piove su non c'è più verso di cavarsela da addosso vuoi comprare le mie scarpe sono buone per accendere il fuoco quanto mi dai del berretto bello acquisto davvero un berretto di midolla di pane c'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo Pinocchio era sulle spine stava lì lì per fare un'ultima offerta ma non aveva coraggio esitava tentennava pativa alla fine disse vuoi darmi quattro soldi di questo abbecedario nuovo io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva molto più giudizio di lui per quattro soldi l'abbecedario lo prendo io gridò un rivenditore di panni usati che si era trovato presente alla conversazione e il libro fu venduto lì su due piedi e pensare che quel povero uomo di geppetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abbecedario al figliuolo